Presidente Bitonci, dopo la decisione di Roberto Maroni di dimettersi da segretario federale della Lega Nord, qual è il futuro del carroccio? Ne abbiamo parlato lunedì in segreteria politica. Il nostro segretario sembra, anzi lo è, estremamente determinato. Ovviamente dispiace a tutti perché Roberto Maroni è un faro, ma lo sarà sempre, del nostro movimento. E' anche vero però, io condivido appieno i suoi ragionamenti, che come ha fatto benissimo il Ministro dell'Interno e come sta lavorando bene anche come governatore della Lombardia, e non è sicuramente facile fare il segretario politico e anche l'amministratore, soprattutto di realtà così importanti, così grosse, in cui bisogna dedicarsi al 100%. E quindi questa scelta è una scelta, io capisco, sofferta, dispiace a tutti, però una scelta che gli fa onore perché un politico deve sapere anche scegliere tra un incarico e un altro. E questo del governo della Lombardia, come per noi, il governo del Veneto con Luca Zaio o del Piemonte con Roberto Cota, sono obiettivi che abbiamo raggiunto dopo molti, molti anni in cui ci si aspettava o tutti quanti volevamo che si arrivasse a presiedere, a governare le regioni. Quindi, e questa è una cosa molto leghista, molto federalista, al di là di quello che facciamo poi qui a Roma. Quello che è importante invece è il lavoro quotidiano fatto dai nostri sindaci, dai nostri presidenti delle province e dai nostri governatori. E quindi questa è una scelta sicuramente importante. Ieri il nostro segretario Maroni confermava che questa sarà una decisione dell'organo federale, però probabilmente il congresso sarà entro la fine dell'anno e quindi è un passaggio importante per il nostro movimento. È necessario trovare una persona che rafforzi l'unità del partito adesso? Ma lo ha detto già Roberto Maroni, ci sono moltissimi giovani in Lega, tutta una generazione, una nuova generazione comunque di amministratori e non solo che insomma che hanno dimostrato di lavorare bene nel territorio ed essere soprattutto dei politici molto attivi e presenti. E penso che all'interno di questo folto gruppo sicuramente verrà individuato o i militanti individueranno quello che è la persona che possa guidare nei prossimi anni il nostro movimento.